Ciao a tutti, sono Vito di Cecca, HC's Inside. Ho iniziato a lavorare in caseificio sin dalla piccola età, a dieci anni. Ricordo quando ho deciso che ho detto a papà che non volevo andare più a scuola, perché quando arrivavo a scuola i miei amici mi bullizzavano un po'. Entravo in classe la prima cosa che facevano era il verso della pecora. Poi ho deciso all'improvviso, come sono arrivato a 18 anni, dopo aver fatto un percorso in caseificio, aver imparato l'arte casearia, di partire in Australia. Ricordo ancora perfettamente quando sono arrivato a Perth in Australia e ho conosciuto la prima ragazza australiana e gli ho detto che il mio lavoro fosse cheesemaker. Ricordo ancora il suono della sua esclamazione che mi ha fatto wow, you are a cheesemaker, that's cool. Mi sono proprio ritrovato diciamo in una fase che non mi aspettavo, perché ad Altamura ero il figlio del pecoraro, il lattiere, il casaro. Quindi questi lavori per anni sono stati diciamo messi da parte da tanti ragazzi. Io con il mio messaggio, quello che vi voglio dire è di avvicinarvi al mondo caseario, alla panificazione, perché ragazzi il futuro è l'artigiano.